Grazie a tutti. Ringrazio il coordinamento romaciclabile, l'INU per questo lavoro di mediazione e ringrazio molto il Dipartimento della Provincia soprattutto per la modalità scelta nel lavoro fatto e presentato oggi. Nel senso che, come l'ultimo intervento, ma come anche Roberto stesso nel suo intervento ci diceva, mi sembra che un aspetto rilevante, che non è possibile scendere dal progetto complessivo, è proprio l'elemento della partecipazione. Giustamente Roberto diceva che questo non è un piano rigido, è un piano che anzi ha una delle sue caratteristiche più importanti nel fatto che sarà in continua evoluzione, sulla base della domanda e sulla base degli elementi che verranno fuori strada facendo. è un progetto che unisce la parte di pianificazione alla parte di attuazione, quindi tentando di evitare, cosa che noi conosciamo molto spesso in Italia, due fasi che poi sono molto distanti nei tempi tra la parte di programmazione e la parte di attuazione vera e propria, ma a questo elemento, ed è in questo io credo soprattutto la novità importante, unisce il fatto che al pianificare facendo c'è l'elemento della partecipazione che io credo sia appunto un elemento che io penso così insomma da questo punto di vista l'idea di far partecipare anche ai momenti di pianificazione i soggetti, gli utenti, coloro che sono i protagonisti della domanda vera e propria. Oggi parliamo di mobilità, parliamo di mobilità ciclabile, ma appunto potremmo parlare e applicare questo stesso concetto a tantissimi ovviamente aspetti dell'amministrazione. Io credo che oggi per chi, ribadisco, dal mio punto di vista fa amministrazione sia un elemento imprescindibile. Guardate, lo dico, da chi ha fatto questa esperienza appunto come per esempio nel mio municipio io mi occupo di urbanistica, non c'è dubbio che programmare e progettare insieme agli utenti, ai cittadini, alle associazioni organizzate sia più complicato, richiede più tempo, richiede la necessità di tenere in considerazione tantissimi punti di vista. Quindi sicuramente può anche prevedere un allungamento dei tempi nella fase di pianificazione, però credo anche che consenta di limitare, ridurre moltissimi errori che per esempio una pianificazione diciamo calata dall'alto, qualche volta, appunto conosciamo molti esempi anche della pianificazione che si è fatta a Roma negli ultimissimi anni, qualche volta abbiamo sperimentato. Quindi questo modello applicato dalla provincia di pianificare facendo in maniera partecipata io credo che sia un elemento particolarmente che merita considerazione e che mi auguro possa essere preso come modello anche di lavoro e di modalità di amministrare anche nei prossimi anni. Detto ciò invece rispetto al merito di quanto abbiamo visto fino adesso io sono davanti a una platea diciamo di persone a cui non bisogna spiegare l'importanza, l'utilità, i vantaggi in termini ambientali, di salute pubblica e anche economici di ridurre sempre più l'utilizzo dell'automobile privata a vantaggio del trasporto pubblico e dei sistemi di mobilità collettiva quale anche la bicicletta. Quindi diciamo che da questo punto di vista oltre perché appunto gli interventi prima di me sono stati molto efficaci, queste sono cose che tra di noi sappiamo molto bene, non ho bisogno di ripetere. Io posso dire che dopo la presentazione del piano della ciclabilità provinciale oggi mi sento un pochino più europea. In una città, non voglio esagerare ovviamente, però diciamo che in una città in cui sappiamo benissimo la media è un'auto a abitante, a cittadino, in un'area metropolitana in cui, le statistiche ci dicono una, per fortuna qualcuno utilizza i mezzi pubblici, la bicicletta veramente in pochissimi ancora, lo sappiamo, in un'area metropolitana in cui quotidianamente circa mezzo milione di persone pensano solamente all'utilizzo della macchina per arrivare da casa al proprio luogo di lavoro o a scuola, è assolutamente evidente, ce lo siamo detti tantissime volte, la necessità di pensare in maniera alternativa. Si tratta, lo sappiamo, di fare una vera e propria rivoluzione culturale, perché come ci mostrava l'ultima mappa, probabilmente anche per condizioni geografiche diverse, dopodiché in Italia dal Veneto in su qualcuno pensa in maniera diciamo anche numericamente significativa all'utilizzo della bicicletta, sotto c'è il deserto totale, o più o meno diciamo. Progetti in Puglia sono molto interessanti. Sì, ok, progetti, esatto, diciamo che ad oggi in quanto a realizzazioni vere e proprie siamo molto poco europei, ecco. E questo ritorniamo diciamo alla responsabilità delle amministrazioni, non voglio fare propaganda, però io credo che da questo punto di vista, l'esempio anche qui dell'impegno che ci ha messo in questi anni la provincia, poi è chiaro che bisognerà seguirne le attuazioni, è chiaro che diciamo non tutti i disegni sulla carta, poi domani saranno progetti realizzati, dopodiché l'impegno che su questo tema ha messo la provincia rispetto ad altre istituzioni che insomma sono sotto gli occhi di tutti, non c'è bisogno di spiegarlo nei dettagli, penso che lo conosciamo. Ecco, io credo che da questo punto di vista l'esempio che oggi abbiamo visto dell'impegno che ha messo la provincia su questo tema debba, debba, ribadisco, lo sottolineo tre volte, diventare una responsabilità delle prossime amministrazioni, in questo caso intendo comunale, ma anche dell'amministrazione regionale, il fatto che Zingaretti l'abbia sperimentato in provincia mi fa ben sperare, se domani le cose dovessero andare bene per lui, che questo stesso impegno possa metterlo anche a livello regionale, in modalità diverse, sappiamo che la regione è un ente che leggifera e non amministra, con modalità diverse, perché non c'è dubbio che l'utilizzo della bicicletta a livello comunale, metropolitano o regionale è molto diverso, ha degli obiettivi diversi, ha delle modalità diverse. Detto ciò, io credo che l'impegno dovremo oggi, nel 2013, in un paese europeo quale siamo, in una città e capitale europea, dovremo richiederlo a tutte le prossime amministrazioni. L'idea che la mobilità ciclabile diventi a tutti gli effetti uno degli aspetti rilevanti e centrali della mobilità nel suo complesso, è un'idea che appunto in Europa, oramai da diversi anni, stanno sperimentando e attuando, è bene che anche a Roma e in Italia e nella regione Lazio cominci anche a ragionarsi in questo modo. Grazie. Io ho solo un brevissimo commento sulla partecipazione. È chiaro che quando parliamo di piani della ciclabilità, biciclette, parliamo delle cose buone. Nessuno dice, ah no, nessuno oserebbe dire che è negativo in generale incentivare questa forma di mobilità. Quando si parla, che ne so, di eredificabili, qualche problemino nella partecipazione, se uno è proprietario di quell'area o non lo è, cambia non poco. Gli interessi in gioco, come dire, sono conflittuali. Però non è del tutto vero. In realtà l'esperienza ci dice che cambiare alcune abitudini di spostamento sul territorio e riadattare il territorio per facilitare nuove abitudini produce altissimi conflitti. Non è vero che tutti dicano, ah che bello che ci sono i ciclabili, perché i ciclabili costano spazio ad altre forme di mobilità e d'uso dello spazio pubblico. Quindi costano cambiamenti di stile di vita e quindi reazioni negative. Anche da chi in astratto non oserebbe mai opporsi ai ciclisti. E quindi significa che la partecipazione di cui dobbiamo parlare non è solo quella tra di noi, cui siamo tutti contenti e felici, che è importante perché dà contenuto e qualità alle opere. Le rende più vicine alla domanda come la domanda si esprime e chiede. Ma dobbiamo allargare i temi della partecipazione in modo da costruire un consenso molto più vasto di quello che si può costruire sulla base di chi già utilizza la bicicletta. Cioè bisogna un po', lo dico più ai ciclisti in questo caso, bisogna uscire da una sorta di corporativismo per cui il ciclista si sente portatore di identità forte, bella e positiva e quindi non capisce come mai il resto della collettività urbana non si è assolutamente d'accordo con lui. Non è così. C'è conflitto e quindi l'allargamento della partecipazione ad altre componenti sociali è un obiettivo fondamentale se vogliamo fare di un piano effettivamente sentito dall'intera collettività come importante da realizzare. Scusami, Dani, prego. Grazie a tutti. Grazie a tutti